Buongiorno a tutti sono Luca Romanin, fisioterapista e coordinatore di Gymnasium e vi do il benvenuto nel mondo di Gymnasium Riabilitazione. È un nuovo portale che stiamo creando in questi giorni per presentarvi tutte le attività che quotidianamente i nostri operatori all'interno di Gymnasium svolgono quindi dal servizio di fisioterapia ambulatoriale al servizio di rieducazione motore nelle nostre palestra ed educativa, a tutti i percorsi riabilitativi che creiamo su misura per l'esigenza dei nostri pazienti fino al nostro punto forte che è la fisioterapia in acqua e l'idrochinesi in terapia. Nelle prossime settimane vi presenteremo il nostro staff, tutti i nostri operatori, i nostri medici, i nostri terapisti, vi presenteremo, vi proporremo dei contenuti su tutte le attività che quotidianamente facciamo e vi proporremo anche delle sezioni tematiche dedicate degli approfondimenti nelle principali patologie che continuamente trattiamo. In questo canale vi teremo anche aggiornati su tutte le modalità operative che in questo periodo storico un po' delicato dal punto di vista sanitario stiamo attuando per garantire la massima sicurezza e la massima prevenzione rispetto all'emergenza coronavirus che tutti quanti in questo momento stiamo vivendo. Quindi seguiteci nelle pagine Facebook e Instagram di Gimnasium Reabilitazione per rimanere aggiornati su tutti i nostri contenuti. Grazie e arrivederci.